Libertà, autonomia, capacità di gestirsi e flessibilità sono termini che sono molto usati e anche abusati. Una delle caratteristiche che ha il lavoro del venditore è la capacità, la possibilità di decidere anche come e quando lavorare. Premesso che dal mio punto di vista autonomia di gestione è pari passo con responsabilità, non voglio discuterne in questo questo video perché meriterebbe forse un giorno lo faremo un video a sé stante, nel senso che un bambino piccolo è inutile che gli dai tantissima autonomia perché non è ancora responsabile, non hai competenze, questo va in mezzo alla strada e fa una brutta fine. Ok quindi questo può farti capire il concetto di autonomia e responsabilità. Autonomia e responsabilità vanno di pari passo, se sei responsabile tutta l'autonomia di questo mondo, hai dei problemi ad essere responsabile e non sei ancora competente, forse dobbiamo ancora confrontarci con qualcun altro, chiusa parentesi. Vediamo invece che la persona che ha le competenze, che ha la responsabilità, che è in grado di gestirsi e vuole gestirsi le potenzialità di libertà organizzativa che ha in un lavoro di vendita, soprattutto un lavoro come quello che faccio io, quello dell'agente immobiliare. hai mai lavorato di Natale? Proprio il 25 dicembre? E magari invece ti sei preso vacanza il 23 di maggio o il 16 di ottobre? Tanto per dirvi le date a caso. Siamo standardizzati, ogni tanto confondiamo quello che è l'orario di lavoro standard con non vado oltre la mia libertà. In realtà la libertà più grande che ha il venditore, il campione che vuole vendere, è quello di potersi organizzare gli orari e poter operare quando vuole. Ora ovviamente io l'ho estremizzata col 25 dicembre, anche se ti dirò che nel Nord America alcuni agenti immobiliari che lavorano per determinate ditte di costruzione tengono aperto gli uffici di cantiere anche il 25 dicembre. Perché? Perché non tutti festeggiano il Natale il 25 dicembre e quindi l'impresario che dà questi grossi incarichi di vendita pretende che ci sia una turnazione anche nei giorni che noi consideriamo di festa. Chiusa parentesi. Tanto per dirti quanti punti di vista diversi ci sono. Quanto è piacevole poter decidere di lavorare quando gli altri non lavorano e di prendermi le vacanze piuttosto che un giorno di permesso di festa e vi dicendo quando gli altri lavorano. Io adoro per esempio farmi il weekend non nel weekend ma da martedì a venerdì per esempio. Io senza problemi mi prendo più volentieri dei giorni di vacanza per fare il weekend chiamiamolo durante la settimana piuttosto che il classico weekend. Ho meno rotture di balle, è più facile trovare disponibilità dove sto cercando, quando sono in giro c'è meno confusione e magari ogni tanto si spende anche meno. Mi piace fare le vacanze non nelle settimane comandate ma quando cavolo voglio io. Come? Non ho nessun problema se devo lavorare la sera tardi piuttosto che la domenica piuttosto che il sabato. Per me il calendario è qualcosa che devo gestire io, non che lui mi deve gestire perché in italia le feste sono comandate le ferie sono comandate. Tuttavia non tutti possono permettersi questo lusso di scelta. Uno dei vantaggi più importanti che abbiamo noi è quello di poterci permettere di decidere quando lavorare. Secondo te le persone sono più rilassate il sabato mattina o lunedì mattina quando inizia la settimana? Tendenzialmente il sabato mattina. Quindi perché se proprio devo scegliere fra i due non faccio festa lunedì mattina e lavoro il sabato mattina se per esempio il tuo calendario non fosse già così. Piuttosto che perché non mi prendo un giorno durante la settimana dove non c'è nessuno in giro che mi rompe le palle e lavoro tutto il sabato. Ma per farti degli esempi semplici questo non vuol dire che non vada bene a fare da lunedì al venerdì piuttosto che da lunedì al sabato quello che è. Assolutamente non va bene se te lo sei cucito addosso perché è un'usanza che è tandato ed è finita lì. Come venditore deve avere la mente aperta e soprattutto puoi capire che hai il diritto di selezionare anche quando lavorare e quando non lavorare. Quanti altri lavori ti danno questa possibilità? Quanti altri lavori ti danno questa opzione? Io ho il responsabile che sia preso 3-4 giorni la settimana scorsa, 3-4 giorni se li prende questa settimana e poi ci dà sotto per un certo periodo senza problemi particolari. A quanti è concessa questa possibilità? Non tanti da che so io. Quindi se hai voglia di trovare un lavoro che ti permetta di crescere, di avere dei guadagni superiore alla media, di poterti realizzare, di essere riconosciuto dai clienti, dai colleghi, dalle persone che ti stanno attorno e che ti permetta anche una bella flessibilità, una bella autonomia man mano che acquisisci competenze e responsabilità, mandami un messaggio, contattami, ci confrontiamo in privato, magari c'è qualcosa di interessante per te e un percorso assieme possiamo pensare di farlo. Alla tua carriera e al tuo successo! grazie a tutti! grazie a tutti!